Ciao amici di Acqua Farina e Pomodoro, io sono Aldo Pizzaiolo allo sbaraglio, ho colto l'invito di Caterina Ferrara, dei colleghi pugliesi e della guida turistica Gabriele Pace per il progetto guida a porte chiuse. Oggi vi mostrerò passo dopo passo come fare la focaccia pugliese, quindi non mi resta che augurarvi buona visione e mani in pasta! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!